Cari concittadini di San Nicola Manfredi, buongiorno a tutti voi. Stamattina ho, sotto l'esitazione, dei residenti di Via Giardino, di Via Nocelle, di Via Baglivi, di Via San Lorenzo. Mi sono recato di buon'ora, alle 7 di stamattina, fino ad ora, praticamente, fino alle 8 e mezza, su Via Giardino, per rendermi conto di persona di quanto veniva lamentato dai vari residenti della zona, cioè l'eccessiva velocità nel tratto compreso del perimetro urbano e quindi di competenza del comune, anche se su strada provinciale, l'eccessiva velocità che mette in pericolo tante persone che vivono lì quotidianamente e quindi si sentono messi in pericolo per la loro incolumità. Quindi alle 7 di stamattina, senza darne annuncio a nessuno, mi sono recato sul posto e ho provveduto a fare ciò che un sindaco deve fare, in particolar modo un sindaco di un comune con meno di 5.000 abitanti, un comune con meno di 5.000 abitanti, l'ho ricordato molto spesso, tra i vari poteri che un sindaco ha, ha quello di autorità di polizia stradale operante sul territorio. Quindi il sindaco personalmente, facendosi riconoscere, può fermare, può intimare l'alta ai guidatori, può elevare sanzioni amministrative e ho fatto quello che è il potere del sindaco fare. Ho verificato che effettivamente il problema ci sta, è molto serio, perché c'è l'eccessiva velocità su quel tratto, il tratto che va da Bacchificio fino al campo sportivo. Quindi io faccio appello innanzitutto ai sannicolesi, ai cittadini del comune di San Nicola Manfredi, ne ho visti diversi passare stamattina, a pensare che lì ci vivono famiglie, ci vivono bambini, ci vivono bambini che hanno il diritto di uscire da casa e salire sullo scuolabus alle 8 in tutta sicurezza, non che addirittura c'è uno scuolabus fermo davanti a una casa e il bambino deve salire appunto sul suo scuolabus che lo deve portare a scuola e che la macchina che segue non ha nemmeno il buon senso di fermarsi, di fermarsi, aspettare che il bambino salga e poi proseguire la marcia. No, si supera non tenendo conto che dall'altra parte ci stanno altre case. Oggi ho potuto verificare che i pullman che passano da qui non tengono conto che è una strada che passa in un centro abitato. Ho fermato personalmente gli autisti dei pullman, li ho identificati, farò le segnalazioni dovute al loro gestore, alla loro ditta, perché non è accettabile che un autista di un pullman che porta 50 persone attraverso un centro abitato con un'elevata velocità da mettere a ripentaglio non solo chi porta sopra il pullman ma chi si trova ad avere a che fare col pullman sulla strada. Quindi il pericolo c'è sotto la pioggia, ho fatto quello che dovevo fare, ho trovato più o meno le soluzioni al problema. Mercoledì prossimo mi incontrerò col presidente della provincia facente funzioni Nino Lombardi, chiederò che vengano installate due rotonde, ci vogliono immediatamente due rotonde. Una all'incrocio che va con Santa Maria in Crisone così da fare un primo rallentamento forte al traffico, un'altra nella zona del campo sportivo o che lungo la strada del centro abitato vengano posti degli autovelox o vengono posti quelli attraversamenti pedonali rialzati. Comunque c'è bisogno di rallentare su quella zona perché le persone che vivono là devono vivere in tutta sicurezza, cosa che non è possibile farlo. Sono stato un'ora e mezza ed è praticamente impossibile stare tranquillo. Io da sindaco in mezzo alla strada a fermare le macchine e invece di decelerare si accelerava in un primo momento, poi mi riconoscevano e frenavano. È una cosa indecente che non può essere più tollerata, ci hanno ragione quelli che vivono lì, ho fermato anche amministratori comunali, persone che hanno avuto la responsabilità di governo di questo territorio, sanno bene il problema e erano i primi a correre. Quindi ognuno deve farsi carico dei problemi degli altri, si deve capire che quando si attraversa quella strada si sta mettendo a repentaglio la vita di qualcuno. Tenendo in considerazione questa cosa provvederò a fare quello che devo fare, sappiate cari concittadini che dalla prossima settimana mi avvarrò di quello che la legge mi dà. Quindi, quantomeno ve le aspettate, fermerò le macchine personalmente e leverò personalmente le sanzioni amministrative necessarie perché a breve installerò anche un autovelox su quella zona. Quindi, cortesemente, in questo momento in maniera bonaria, vi invito a rallentare dalla zona del campo sportivo alla zona del distributore della benzina, dell'exo da bacchificio e viceversa, in particolar modo a scendere avviene la questione. Sappiate che lì ci sono famiglie, quindi tenete in considerazione quando state attraversando quella zona, ricordatevi di me e decelerate. Abbiate il rispetto per chi vive in quella zona. E alle giustificazioni, ho fatto tardi al lavoro, devo portare i bambini a scuola, non ci sono giustificazioni che tengono. vi alzate prima, vi andate a dormire prima, vi alzate prima la mattina e arrivate in orario dove dovete arrivare. Detto questo, io vi ringrazio, non mollerò su questa storia perché chi vive lì ha pienamente ragione e la questione deve essere, una volta per tutte, risolta. E io sono qui per risolverla. Buona giornata a tutti, arrivederci.